Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo all'Ocrila a tre giorni dei confini del Sud, tre serate di qualità che hanno arricchito l'estate locrese tra arte, cultura e musica per la quindicesima edizione. Già lo scorso anno l'amministrazione comunale ha voluto riprendere questo evento e i numeri e le presenze hanno dato ragione. Dopo il mese di luglio ricco di eventi culturali guidati dall'assessore alla cultura e dagli eventi Domenica Bumbaca, tra Kermes, Giugno Locrese e Genius Loci, in collaborazione con la direzione dei musei della Calabria, agosto si è aperto con il Locri Festival, la settimana del turista e poi il Clou con i confini del Sud. Sin dai primi concerti, l'11, il 12 e il 13 agosto, grande pubblico per le grandi occasioni e Massimo Cusato, direttore artistico della Carsegna ai confini del Sud, ha confermato la valenza culturale del progetto musicale, portando a Locri tre serate con artisti nazionali che hanno divertito e affascinato migliaia di persone. Prima serata iniziata con le emozioni e l'estro di Francesco Baccini, per il pienone della Fondazione Zappia, per raddoppiare i numeri con il gruppo funk di Rotta su Cubra, con una crintosa e super cantante Simona Bencini. Serata conclusiva col botto che ha fatto ballare per due ore i presenti con il gruppo Dominic Antonacci. I Terraros, una realtà musicale e culturale importante, tanto da aver indotto le istituzioni locali della provincia di Taranto a nominarne i gruppo ufficiale di Terra Ionica e Locri, li ha apprezzati divertendosi ancora di più con la performance Terraros Massimo Cusato, che sul palco delle state locrese hanno sbalordito veramente tutti. Soddisfazione del direttore artistico, grazie alle qualità e alla bravura degli artisti, abbiamo intrapreso, dice Massimo Cusato, un percorso con l'amministrazione comunale che ci ha confermato la bellezza di questo festival. Ha ringraziato Cusato il comune che ha creduto e offerto tre serate di spettacoli live. È stata ogni sera un'emozione che ha fatto conoscere realtà musicali diverse tra loro che hanno appassionato proprio tutti. Un grazie ovviamente è stato rivolto alla Fondazione Zappia, al Presidente La Rosa e al Vice Romeo per aver ospitato la Kermesse e poi ai volontari gli operatori PUC e TR Live per la fotografia, Manuela Futia, che hanno lavorato costantemente per la buona riuscita dell'evento e quanto ha affermato l'assessore alla cultura Domenica Bumbaca. Tutto da vivere continua l'assessore e dopo il gran finale tutti in spiaggia dove il lungomare Zareuco il 14 agosto mattina è divenuto di fronte Piazza Nossi del palcoscenico delle suggestive emozioni con il concerto all'alba di Moriconi, Carucci e Placanica con coreografia della scuola di danza Evolve. Il concerto è tra gli eventi di Locri Festival, iniziativa di promozione turistica sostenibile 2023 sul territorio della Calabria, al fine di rilanciare l'economia, la socialità e l'attività del territorio con il contributo della Regione Calabria.